I suoi tifosi nel pubblico, adesso la Lighthouse sta ricominciando a giocare proprio da quando è rientrato Renzi ma anche con Luca Ianesi in campo, quindi complimenti al Meranese il punteggio dice ancora bene all'Aquila Basket che va a trovare la schiacciata, la prima della partita di Trent con B.J. Helder altro assist dei lunghi Trentini e la schiacciata di B.J. Helder sul backdoor, libero per l'affondazione